che sono le prime due favorite probabilmente visto il servizio di Serena e centrale anche per la Serpa La palla è buona, sembrava nettamente buona Jankovic che comunque chiama l'occhio di Falco ma arriva alla conferma adesso Disegna degli angoli Mamma mia Chiedi ben dentro al campo Ha accelerato Palla break Buona Stardinaria Il paradosso Altro game molto solido della numero uno Continua a servire bene la Jankovic Altra gran prima Larga la risposta comunque Scontro tra la Jankovic e la Catavalle Ancora la profondità Arriva il contro Che risposta Non l'ha vista però al servizio Sia in risposta che appunto nell'esecuzione del servizio Jankovic che in una partita del genere è costretta a tenere più prime possibili in campo E deve anche sperare che tenga meno prime possibili in campo sereno E 30 pari Altra grandissima risposta Stavolta di rovescio Tocca la riga la prima di servizio della Jankovic Che servizio Rimane in campo il rovescio di Serena E questo grosso è straordinario Altro nastro E può passare Serena Esultanza Mamma mia che prime che mette in campo Sì Gran palla di servizio Se ne va anche Mamma mia il crocio più corto delle righe Mai dare a Serena Si salva la Jankovic perché Fucilata Da ferma Però come ha fatto in precedenza Attivamente è lunga e quindi set point Non poteva mentieri È invidiabile E va via Questo dritto 39 minuti la durata del primo set Serena Williams Se lo porta a casa Con il netto parziale Di 6 giochi a 2 Viste anche l'invasione Prodezza E rivediamola perché è una grande Soluzione Credeva di aver perso il punto Guardate che Riflesso Sbaglia uno schiaffo Gran punto Tanto questo è un attacco Niente male Jankovic che da grande atleta Arriva su questa palla Ed è lunga anche questa di risposta Due risposte consecutive Che è successo? Ha messo male In piede la Williams Che si è bloccata Completamente Sì Il problema è Penso alla gamba destra Stava giocando il rovescio Tranquillamente Ah eccola Ha messo male una caviglia È scivolata Con la caviglia destra Incredibile Quasi al volo Deve giocare Qua l'America Larga Colpita non benissimo Questa risposta Bella Era da un po' E con lei Si porta a casa un game Tiene il servizio La Jankovic Altro errore con lo schiaffo Jankovic che chiude in spaccata Come suo solito Ace Scucciatissima la Williams Ancora una volta il servizio però Dopo Che gran dritto Da posizione centrale Trova praticamente l'incrocio Ecco fatto Insomiglia molto Ace Sta iniziando a E' ancora la prima Riga Questa esce Nove punti Consecutivo Quanto meno Ha interrotto la serie Annulla due match point Con altrettanti Grand dritto Della Jankovic E' grande attacco Beh Continua A perdere un po' di tempo La Jankovic Tra un punto e l'altro Ed essere molto Cattiva Incattivita anzi Ecco Bel battibecco Tra le due Ora non sappiamo Cosa la Williams Abbia detto alla Jankovic Però La Williams Ne ha detto di Immagino io Di sbrigarsi Credo che Il problema Sia stato un warning Probabilmente Che è stato dato Alla Jankovic Qualche minuto fa Anche se io non ho sentito Caternoni Comunicarlo Alla Jankovic Che comunque L'ha presa malissimo In occasione Del primo match point Che ha annullato Si è rimesso a giocare bene La Jankovic Dallo 0-40 Una chiamata fuori Pagio Jankovic Effettivamente la palla La fa rimbalzare E fa bene La Williams Perché poi trova Scatenata la Williams Ve lo stoppata E chiude con lo schiaffo Serena Williams Che batte per la nonna volta In carriera Jelena Jankovic Si chiariscono Le due giocatrici Anche se Ecco Adesso una racchettata Ma Assolutamente amichevole Tra le due Addirittura Un vero e proprio Conciliabolo Forse Serena le sta spiegando Che insomma Questi Certi atteggiamenti Potrebbero non essere Troppo Positivi Insomma Punteggio finale A favore di Serena Williams 6-2-6-2 L'americana Proda Molto facilmente In semifinale